paolo casisa presenta il rock raccontato da un musicista cari amici di radio talpa oggi procediamo spediti con la storia del southern rock americano parlando di una band nata nel 1972 a spartanburg nella carolina del sud considerati i più importanti esponenti del rock sudista assieme agli allman brothers band e ai leonard skinnard e condotti con gran talento dai fratelli toy e tommy caldwell questa sera narriamo la storia dei mitici the marshall tucker band suonare Grazie a tutti 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 Grazie a tutti